Resta alta l'allerta smog in Italia, anche se in queste ore il clima sta cambiando, soprattutto a Settentrione, dove però la qualità dell'aria è ancora pessima. Così infatti appare Torino stamani in queste immagini e così molti blocchi della circolazione restano attivi. Ma a tenere manco il caso Roma, dove anche oggi e domani, come è accaduto ieri, visto il persistere degli elevati livelli di polveri sottili, restano fermi gli autoveicoli diesel, dagli Euro 3 agli Euro 6 compresi. Non mancano le polemiche, per alcune associazioni lo stop ai diesel è ritenuto inutile, in particolare fermare autodesel Euro 6 di recente costruzione e lasciare circolare auto a benzina Euro 3 vecchie di 18 anni è giudicato un controsenso. E secondo il CNR sarebbe più utile limitare i chilometri fatti in auto e monitorare la crescita dell'utilizzo di stufe domestiche a pellet che rilasciano polvere in quantità. I blocchi intanto continuano anche a Torino, fino a giovedì con lo stop dei diesel Euro 5 e a Milano, dove da oggi sono in vigore le misure di secondo livello che si aggiungono a quelle già in vigore. Tra i nuovi provvedimenti il blocco dei diesel è steso anche al weekend per gli Euro 4 e per il commerciale Euro 3. Per contrastare l'emergenza si confida anche nella fine del fronte di alta pressione, con le piogge previste venerdì e già iniziate oggi in alcune aree del nord.